Si muove da Venezia la macchina per istituire il Tribunale della Pedemontana. La Giunta regionale ha dato mandato al Vice Presidente Gianluca Forcolin di avviare la procedura per la predisposizione di una proposta di legge nazionale per la ridefinizione della circoscrizione giudiziaria di Bassano del Grappa e la ricostituzione del Palazzo di Giustizia. Solo venerdì scorso l'aveva annunciato il Presidente Luca Zaia a Bassano per lanciare il progetto del nuovo Tribunale della Pedemontana. Come ha detto, risposta concreta allo scempio della chiusura di quello di Bassano e lanciare una sfida al Parlamento per una giustizia presente ed efficiente. L'ottavo Tribunale del Veneto, quindi salvando il grande Tribunale di Bassano e quindi questa idea di progettualità, condivisa peraltro da tutti i sindaci coinvolti nella Pedemontana e che direi che questa è l'interpretazione di un progetto della comunità. Il progetto del Tribunale della Pedemontana, lo ricordiamo, è già stato firmato da ben 60 sindaci su 75 dell'area interessata.